Matteo Veriti, grande protagonista della serata, una di quelle partite che difficilmente dimenticherà, Matteo. Sì, oggi è andato tutto bene, è andato tutto dritto, ho fatto tre gol, abbiamo vinto, con la terza in classifica, meglio di così. Non potevo sognarmi una serata così, ecco. Una partita che mette fuori gioco il Villa, il Cavazzo invece ha vinto, però credo che vi dia tanto, tanto morale in più. Tredicesima vittoria consecutiva, avete battuto tutte le squadre del campionato. Oggi abbiamo tirato fuori gli attributi della vera squadra, anche perché senza due titolari, come Mori e come Matiz, era difficile venire in questo campo qua e vincere. Ci siamo riusciti, abbiamo avuto anche fortuna, ma in questi casi ci sta, è andata bene, ecco. Che cos'è cambiato di Matteo Veriti di quest'anno, questa esplosione da cosa deriva? Secondo me la preparazione atletica l'abbiamo fatta in un modo migliore, dopo il mio modo di vedere contano tanto anche gli infortuni. Quest'anno sto bene fisicamente, riesco a correre tutta la partita, non ho ancora avuto un infortunio e personalmente ne sento tanto. Marreallo vince lo scudetto? È ancora lungo, abbiamo ancora lo scontro diretto, a Cavazzo oltretutto. Una squadra fortissima, noi meglio di così non possiamo fare, quindi ce la giocheremo.